eccoci e bentornati sul mio canale guardate un po ragazzi la testa di halloween siamo su combine versione zombies in occasione di halloween si avete ragione manca ancora un bel po all'arrivo di halloween però già hanno creato una versione zombies di combine dedicata appunto ad halloween mappa veramente fighissima allora ho cambiato metodo di registrazione prima ragazzi registravo con fraps ma purtroppo mi dava problemi di lag adesso mi sono messo a registrare con obs mi sembra il lag diminuito però ho bisogno ovviamente delle vostre dei vostri consigli e suggerimenti da che siete molto più esperti di me in materia pc per cercare di ridurre ancora di più questo lag il dettaglio mi sembra leggermente migliorato rispetto ai precedenti video e almeno guardate come spuntano questi schifosi zombie voglio aprirvi almeno una porta per farvi vedere quanto può essere figa questa mappa se si sbrigasse avvenire qualche bello qualche bello zombie ok e mori oh e mori santissimo il cielo forza forza ehi che cacchio e quanti headshot ti devo fare allora qua ce ne stanno un bel po quindi andiamo qui guardate quanto cacchio ragazzi è cambiata la qua abbiamo la classica jeep dove si nascondevano i nemici quale porte praticamente sono tutte chiuse mentre praticamente le potiamo utilizzare tranquillamente nei precedenti nella partita multiplayer guardate qui c'è la zucca che ci accompagna in tutta la mappa guardate quale candele qua in alto l'illuminazione a led la sulla match box che ci dà l'indicazione fantasmini e zucche di halloween e qui purtroppo non possiamo entrare qui come vedete bisogna utilizzare i costi quindi i crediti che prendiamo per spostare tutti i vari tutte le varie oh ma vuoi morire oppure no tutti i vari tutte le varie protezioni oh e che cacchio tutta sta gente sta bene questi corrono questi corrono e soffino pure le munizioni bam aspetta che ne mettiamo un'altra che ne mettiamo un'altra attenti 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 ok via 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 perfetto oh che cacchio a momenti mi ammazzo da solo vi voglio far vedere anche quest'altra parte ragazzi morte tasse aspetta che ne levo qualcuno ok prendiamo le munizioni abbiamo recuperate vi voglio far vedere vedete anche qui ci sono altri ostacoli che ci portano l'altro punto di risponde quest'altra porta anch'essa è bloccata qui c'è una match box del costo di 950 che purtroppo non possiamo andare ad utilizzare perché non ce l'abbiamo però possiamo vedere se eventualmente uccidendo questi tizi ci arriviamo però almeno vi ho fatto vedere quanto può essere carina e figa questa mappa puoi morire ok 980 questo sta per terra può rimanere qua andiamo a vedere cosa troviamo nella match box speriamo qualcosa di figo il brecci ok ragazzi spero che il video sia stato il vostro gradimento fatemi sapere date un'indicazione per utilizzare al meglio OBS che è pochissimo che lo utilizzo quindi sto cercando di ottimizzare al meglio le le impostazioni spero che la mappa combine versione zombies versione Halloween sia stato il vostro gradimento fatemi sapere se volete un gameplay completo su questa mappa e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale dentro ci vediamo a presto il